Mister, considerando la prestazione, una grande prestazione contro una squadra forte come la Juventus, c'è quasi rammarico per non aver portato a casa punti questa sera, per quello che si è visto. Sì, assolutamente, perché comunque la squadra, come hai detto tu, ha fatto sotto tanti punti di vista una grande prestazione. C'è il rammarico perché abbiamo creato tante situazioni anche per andare in vantaggio all'inizio e quindi come sempre c'è il rammarico quando fai una buona prestazione, crei le situazioni per poter andare in gol e non portare via punti ti lascia la mare in bocca. Però, d'altro canto, venire a giocare su un campo così, dopo la prestazione così di Genova, c'è stata una grande reazione da un punto di vista della squadra, del gruppo e questo è un aspetto che fa naturalmente molto piacere, dà fiducia per il prossimo futuro e quindi queste sono, soprattutto è questo quello che dobbiamo portare via, che abbiamo fatto una grande prestazione e quindi da qui dobbiamo ripartire per il nostro percorso. Il percorso che si avvia verso la fase finale del campionato perché parte questa sera il ciclo finale di partite, alla vigilia diciamo, all'inizio di questo percorso finale. Il Verona ha dato le risposte a lei, quelle che cercava? Sì, stasera sì, poi è chiaro che dobbiamo migliorare e dobbiamo migliorare perché, come ho detto prima, questa prestazione abbiamo creato le situazioni anche per far gol e quindi i miglioramenti che dobbiamo fare sono quelli di sfruttare poi le cose che crei per riuscire poi a portare a casa i punti e quindi questa è la situazione che dobbiamo crescere, dobbiamo crescere soprattutto nella fase di finalizzazione, avere sicuramente più capacità nelle scelte, più anche cattiveria, rabbia, convinzione. Ecco, queste sono le cose sulle quali dovremmo lavorare perché sono queste le cose che all'interno di una prestazione del genere ti possono consentire di portare a casa dei punti.